Comiso Quattro persone di cui una minorenne sono state denunciate dai carabinieri di Acate nell'ambito dei servizi di contrasto alle fumarole. Si tratta di tre vittoriesi di cui uno minorenne e di un rumeno. Si è diffusa in questi giorni la notizia di una possibile chiusura del reparto di chirurgia al Busacca di Scicli. Al momento pare si tratti solo di una liceria ma sono già intervenuti Padua e Di Giacomo. L'ARPA regionale sezione Ragusa interviene su quanto accaduto lo scorso 25 giugno a Scoglitti, ovvero la fuoriuscita di Liguami dagli impianti fognali della Lanterna, a sollecitarla i 5 Stelle. Da oggi il Comune di Santa Croce fornirà ai commercianti i contenitori per la raccolta differenziata. Tal proposito il Presidente dell'ASCOM ha invitato gli associati alla massima collaborazione. Un saluto e ben trovati all'appuntamento con la nostra informazione. Dunque approvato dal commissario straordinario dell'ex provincia Dario Cartabellotta il bando per l'incentivazione delle rotte con i fondi a valere ex insice. Il bando prevede un impegno di spesa di 1.350.000 euro. Sentiamo. Il commissario straordinario dell'ex provincia Dario Cartabellotta ha approvato il bando stilato e trasmesso dalla società di gestione dell'aeroporto di Comiso per l'incentivazione delle rotte con i fondi a valere ex insice. Il bando prevede interventi di sostegno e promozione in favore dell'aeroporto di Comiso per un impegno di spesa di 1.350.000 euro e ha ricevuto pure il via libera da parte della Commissione di Valutazione istituita presso la Commissione Europea Direzione Generale di Concorrenza. Rispetto alle intese raggiunte in prima battuta con la Commissione Europea, il bando ora prevede che per ciascuna rotta l'aiuto venga concesso alla compagnia aerea per un periodo massimo di tre anni, rispetto alla formula precedentemente concordata che prevedeva, leggiamo testualmente, un aiuto concesso per una durata complessiva di due anni a fronte dell'impegno irrevocabile da parte del beneficiario di assicurare l'esercizio di quella rotta per cui ha avuto l'aiuto per ulteriori due anni. Questa variazione è stata approvata, seppure informalmente, dalla Commissione. Si aspetta ora la comunicazione ufficiale, ma Suaco e Libero Consorzio Comunale di Ragusa hanno deciso ugualmente di pubblicare il bando per accelerare i tempi. Mi auguro che questa sia la volta buona, dice il commissario Cartabellotta, per far partire le incentivazioni delle rotte per l'aeroporto di Comiso. È stata la mia prima opzione amministrativa una volta insediato a Ragusa e spero che a chiusura del mio mandato questo progetto, dice, possa vedere la luce e Comiso abbia rotte nuove, quindi nuovi turisti e nuovo sviluppo. Quattro persone di cui una minorenne sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Acate nell'ambito dei servizi di contrasto alle fumarole. Si tratta di tre vittoriesi, di cui uno minorenne, e di un romeno, sequestrata anche una discarica abusiva di 500 metri quadri. Prosegue la lotta al fenomeno delle fumarole ad opera delle forze dell'ordine. Una lotta senza sosta e molto complicata, dato che spesso è difficile individuare il punto di origine di un incendio fra le infinite trazzere degli impianti serricoli. Nonostante tutto, l'impegno profuso dalle forze dell'ordine è massimo e nell'ambito dei controlli predisposti ad hoc dal comandante provinciale Carabinieri di Ragusa, i militari della Compagnia di Vittoria, nelle prime ore di oggi, hanno sottoposto ad attività espettiva numerosi appezzamenti agricoli di contrada di Rillo ad Acate. In particolare, i militari della locale stazione hanno concentrato la loro attenzione su alcuni terreni situati in quella contrada e dopo averla monitorata per diversi giorni, è scattato il blitz, durante il quale sono stati rinvenuti numerosi e consistenti cumuli di rifiuti per svariate tonnellate costituiti da inerti, materiale plastico e rifiuti organici di ogni genere. Inoltre, sono stati rilevati appezzamenti di superfici interessate dalla combustione di materiale plastico provenienti dalle serre agricole adeocenti e delle relative cenere, materiale quindi sottratto a regolare smaltimento. Trovati anche rifiuti vegetali provenienti dall'attività serricola. L'accumulo di rifiuti speciali e delle materie plastiche ed in particolare la loro combustione, lo ricordiamo, provoca lo sversamento nel terreno di liquidi e sostanze altamente nocive che possono inquinare il suolo e le relative falde acquifere, mentre nell'aria si liberano composti organici altamente inquinanti. È scattata così la denuncia a piede libero per quattro persone. Si tratta di tre vittoriesi, un 46enne, un 21enne e un minorenne, e di un rumeno 25enne. Dovranno rispondere dei reati di abbandono, combustione e smaltimento illecito di rifiuti speciali con emissioni diffuse in atmosfera di polveri. L'intera area, di oltre 500 metri quadrati, è stata sottoposta al sequestro e sono tuttora in corso accertamenti di natura tecnica finalizzati all'individuazione di corpi metallici nel sottosuolo al fine di accertare il livello e la gravità dell'inquinamento prodotto. Un auto articolato carico di ortaggi e diretto in Francia ha preso fuoco ieri sera poco prima delle ore 21 mentre percorreva la SP5, che da Vittoria incrocia la 514 in direzione Catania. Le fiamme si sono sviluppate nella parte posteriore del rimorchio, presumibilmente per un guasto. Sul posto la squadra operativa del distaccamento di Vittoria ha un autobotte per il rifornimento idrico da Ragusa. Una volta spento l'incendio, l'intervento dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, intanto giunta sul posto, è proseguito per liberare la sede stradale, recuperare il carico e regolare il traffico. Per spostare il mezzo è stato necessario richiedere l'intervento di una gru di proprietà privata. Si è diffusa in questi giorni la notizia di una possibile chiusura del reparto di chirurgia al Busacca di Scicli. Al momento pare si tratti solo di una digeria, ma intanto si registra già l'intervento della senatrice del PD, Padua, e dell'onorevole Di Giacomo, sempre del PD. Il reparto di chirurgia di Scicli a rischio ridimensionamento lo temono molti utenti e cittadini, allarmati da una notizia che si è diffusa in questi giorni. Sulla questione sono intervenuti in queste ore due esponenti del PD, la senatrice Venera Padua e il deputato regionale Pippo Di Giacomo. L'allarme che si è creato attorno al ridimensionamento del reparto di chirurgia al Busacca di Scicli, dichiara la Padua, sembrerebbe essenzialmente legato al ricorso alle ferie estive, quindi una necessità per garantire la rotazione del personale. Non vorremmo però che questa precarietà diventasse strutturale, quindi una circostanza che impedirebbe il mantenimento di un presidio importante sul territorio per alleggerire la liste d'attesa e ridurre il carico di lavoro delle altre realtà ospedaliere. Questa scelta di mantenere il reparto per permettere interventi di piccola chirurgia, continua la senatrice, ha garantito risultati importanti, facilitando la necessità di ottenere risposte sul fronte della salute ai cittadini e nello stesso tempo ha risolto un altro consistente problema, che è quello, come detto, della riduzione delle liste d'attesa. Penso che sospendere le attività di chirurgia dell'ospedale di Scicli, al di là di situazioni transitorie determinate dal ricorrente problema delle ferie estive, sia un errore che va corretto, dichiara a sua volta Pippo Di Giacomo. A Comiso, il reparto di chirurgia, sviluppa una produttività di oltre 3.000 interventi l'anno, alleggerendo le liste d'attesa, che sono il male endemico della sanità siciliana. E se ciò è riuscito a Comiso, che la direzione dell'ASP di Ragusa vanta come un esperimento di portata nazionale da emulare in altre realtà siciliane, non vedo perché non emularlo intanto anche a Scicli. Vorrei ricordare, dice Di Giacomo, che l'idea dell'ospedale riunito, che ha salvato 40 ospedali in Sicilia e che ha la paternità in Lucia Borsellino e nel sottoscritto, dà ai manager ampi spazi di manovra, ovviamente all'interno dei limiti di personale, argomento nel quale l'ASP di Ragusa è stata da noi ampiamente risarcita dai tagli del 2010. Di Giacomo inoltre annuncia chiederemo un incontro con i vertici aziendali per chiarire questa strategica e vitale questione della sanità iblea. Sittin di protesta nel pomeriggio di oggi del gruppo Noi con Salvini, Vittoria sulla SP5 Comiso, Vittoria davanti a una zona stracolma di rifiuti. Chiedono l'intervento dell'esercito nella gestione dell'emergenza per garantire la salute pubblica. Nella zona insistono dei cassonetti che a causa però dell'attuale situazione che si registra in tutta la Sicilia non sono svuotati da giorni e invadono anche la sede stradale, rendendo pericoloso il traffico veicolare. L'ARPA regionale sezione Ragusa interviene su quanto accaduto lo scorso 25 giugno a Scoglitti, ovvero la fuoriuscita di liquami dagli impianti fognari della Lanterna. A sollecitarla il Movimento 5 Stelle, Vittoria. 15 giorni fa il Movimento 5 Stelle di Vittoria ha inviato una lettera al sindaco Giovanni Moscato, all'assessore all'ambiente Gianluca Occhipinti e all'ARPA regionale sezione di Ragusa per richiedere di intervenire e di fare chiarezza su quanto accaduto nella spiaggia della Lanterna lo scorso 25 giugno, ovvero la fuoriuscita di liquami dagli impianti fognari sulla spiaggia di Scoglitti. La lettera, scrivono oggi gli attivisti e i consiglieri Giuseppe Re, Valentina Argentino e Giuseppe Ragusa, ha avuto esito positivo, visto che l'ARPA ha ufficialmente risposto, giorno 13, con una nota ufficiale indirizzata al Comune di Vittoria, richiedendo di fornire informazioni relative all'episodio. In particolare sono chieste informazioni relative all'applicazione delle procedure amministrative e operative poste in carico al responsabile dell'inquinamento, ovvero l'amministrazione stessa, e quali misure di messa in sicurezza di emergenza siano state adottate. L'ARPA, inoltre, scrivono i pentastellati, chiede al Comune di Vittoria di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché venga scongiurato il ripetersi di questi eventi già accaduti negli anni passati, che possono determinare la contaminazione della sabbia e delle acque del mare e di dare le dovute comunicazioni alla locale ASP7. Con riguardo alla nostra richiesta di intervento, aggiungono, l'ARPA ha già avviato la campagna di monitoraggio dell'alga tossica Ostreopsis, i controlli intensificati al depuratore delle acque reflu e della frazione balneare ed il monitoraggio delle acque marino costiere. Il Movimento 5 Stelle di Vittoria, aggiungono, ha inviato questa nota a tutela della salute pubblica e a garanzia della trasparenza e correttezza delle procedure avviate da questa amministrazione e rimane dunque in attesa delle risposte con riguardo ai quesiti sollevati dall'ARPA. Con ordinanza sindacale del 15 luglio scorso è stato istituito fino al 30 settembre prossimo il doppio senso di marcia di via Orfanotrofia-Ragusa-Ibla esclusivamente per i residenti nel tratto compreso tra Corso 25 Aprile e via Torre Nuova. Dopo questa data, al fine di facilitare la mobilità dei residenti di via Porta Modica, verrà istituito invece il senso unico di marcia in via Orfanotrofia e in via San Dommaso nel tratto compreso tra Corso 25 Aprile e via Torre Nuova. è Corso 25 Aprile e via Porta Modica. L'emanazione dell'atto fanno sapere dal comune di Ragusa fa seguito alle richieste di numerosi residenti di via Porta Modica al fine di raggiungere più agevolmente le proprie abitazioni. Da oggi il comune di Santa Croce-Camerina fornirà ai commercianti i contenitori per la raccolta differenziata. A tal proposito il presidente di Ascom Pollari garantisce massima collaborazione da parte degli iscritti. Il presidente della sezione Ascom di Santa Croce-Camerina Vitaliano Pollari ha invitato gli associati a fornire la massima collaborazione nella campagna avviata dall'amministrazione comunale che sulla base delle ordinanze emanate nei giorni scorsi dal presidente della regione mira differenziare i rifiuti. A partire da oggi rende noto Pollari dopo aver ricevuto comunicazioni in proposito dal sindaco Franco Iurato personale del comune e della città incaricata del servizio ambientale provvederà alla distribuzione degli appositi contenitori fornendo nel contempo le opportune informazioni circa l'organizzazione della raccolta differenziata. Saranno forniti dei correlabili di cipollari che consentiranno a ciascun operatore di selezionare le varie tipologie di rifiuti. Siamo coscienti circa il fatto che è dispensabile fornire una piena collaborazione per incentivare il più possibile la raccolta differenziata. Siamo naturalmente favorevoli a queste iniziative e nei prossimi giorni organizzeremo una riunione che ci servirà per un confronto su come sarà possibile migliorare ulteriormente il rendimento del servizio. Il presidente del Consiglio Comunale di Vittoria Andrea Nicosia parteciperà all'iniziativa denominata Carrozzina Day. Si tratta di un'iniziativa che invita cittadini ed esponenti politici a trascorrere qualche ora in giro per la città su una carrozzina. Obiettivo far vivere in prima persona le difficoltà vissute giornalmente da chi ha difficoltà motori e far comprendere come anche un semplice gradino rappresenti un ostacolo insoromontabile. Nicosia raccolto quindi l'invito di Comisi a sua volta lo ha girato ai capigruppo consigliari. Il presidente del Consiglio Comunale ha anche annunciato di voler organizzare quanto prima un incontro con le associazioni e le altre realtà che operano in questo ambito quotidianamente sul territorio di Vittoria. FB4Children compie due anni nata dall'idea dell'ingegnere Dario Gulino e una community nota sul social network Facebook con lo scopo di aiutare tutti i bambini dalla loro nascita alla loro adolescenza che non hanno la possibilità di avere necessario per la loro crescita. Per cui se si hanno vestiti giocattoli accessori scolastici per il tempo libero un consiglio o altro ancora di utile alla crescita possono essere donati attraverso il gruppo che appunto si trova sulla pagina Facebook FB4Children sono esclusi però dalla donazione farmaci e soldi 20.000 ottalmente iscritti che consentono alla solidarietà di non andare mai in vacanza. Proseguono i riconoscimenti per il premio Ragusani nel mondo oggi è stato annunciato il nome di un altro premiato il vittoriese Giuseppe Di Falco figura simbolo in Italia e all'estero nella chirurgia toracica e dei trapianti originario di Vittoria e attualmente presidente della principale Banca dei Tessuti Umani italiani Giuseppe Di Falco nato a Vittoria 67 anni fa ha guidato per decenni il reparto di chirurgia generale e toracica dei trapianti e il dipartimento di chirurgia del Caffoncello di Treviso dove ha prestato servizio per 40 anni Di Falco è uno dei premiati della prossima edizione del premio Ragusani nel mondo in programma il 5 e 6 agosto prossimo in Piazza Libertà Ragusa nella sua lunga carriera Di Falco si è interessato prevalentemente di chirurgia toracica e dei trapianti conseguendo numerosi riconoscimenti scientifici di respiro internazionale è stato autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed alcuni volumi sui trapianti in lingua inglese tradotti in tutto il mondo è stato un pioniere in Italia della chirurgia esofogea ed ha portato avanti sin dai primi anni 90 la chirurgia mini-invasiva e robotica il suo unico obiettivo la salute del paziente lo ha spinto alla continua ricerca di una sinergia tra diverse discipline chirurgiche all'attività chirurgica ha abbinato quella di professore a contratto di esperto di consiglio superiore di sanità oltre a essere socio e membro direttivo di numerose società scientifiche italiane in campo chirurgico e dei trapianti la fondazione banca dei tessuti che ancora presiede dispone di una capillare struttura organizzativa che permette all'equipe di prelevatori di recarsi in vari ospedali del nord Italia e procedere entro le 24 ore dal decesso a prelievo di tessuti del campo donatore l'istituto che ha ricevuto negli ultimi anni i prestigiosi riconoscimenti scientifici in campo internazionale intrattiene rapporti con i lussi clinici di varie discipline e svolge un'intensa attività di formazione ed educazione alla cultura delle donazioni E ora una notizia che riguarda le famiglie di Vittoria in pagamento da oggi rimborsi per la fornitura dei libri di testo per gli studenti delle scuole medie e superiori relativamente all'anno scolastico 2013-2014 Gli interessati possono quindi presentarsi agli sportelli della tesoreria comunale Banco Unicredit di via Rosario Cancellieri muniti di documento di identità e codice fiscale C'è la pubblicità ora torniamo tra poco Di nuovo in studio per rivedere insieme i fatti in primo piano Approvato dal commissario straordinario dell'ex provincia Dario Cartabellotta il bando per l'ingentivazione delle rotte attive all'aeroporto di Comiso con fondi a valere ex insicem Il bando rinnovato rispetto al precedente prevede un impegno di spesa di 1.350.000 euro e ricevuto il via libera da parte della commissione di valutazione istituita presso la commissione europea generale concorrenza 4 persone di cui una minorenne sono state denunciate dai carabinieri di Acate nell'ambito dei servizi di contrasto alle fumarole si tratta di 3 vittoriesi di cui uno minorenne e di un rumeno sequestrata anche una discarica abusiva di 500 metri quadri nell'area numerosi cumuli di rifiuti per svariate tonnellate costituiti da inerti materiale plastico e rifiuti organici poco distante anche residui di materiale dato alle fiamme si è diffusa in questi giorni la notizia di una possibile chiusura del reparto di chirurgia al Busacca di Scicli al momento pare si tratti solo di una diceria ma sono già intervenuti Padua e Di Giacomo la senatrice e il deputato regionale del PD chiedono infatti che la precarietà legata al periodo estivo e quindi alle ferie degli impiegati non sia il primo passo verso la chiusura del reparto Di Giacomo poi chiede un vertice con l'ASP l'ARPA regionale sezione Ragusa interviene su quanto accaduto lo scorso 25 giugno a Scoiitti ovvero la fuoriuscita di liquami dagli impianti fognali della lanterna a sollecitarla ai 5 stelle il movimento è infatti scritto al sindaco all'assessore all'ambiente e all'ARPA che ora ha chiesto al comune informazioni su quanto accaduto e su come è stato affrontato il problema intanto aggiungono aspettiamo risposte dal comune da oggi il comune di Santa Croce fornirà ai commercianti i contenitori per la raccolta differenziata tal proposito il presidente dell'ASCOM ha invitato gli associati alla massima collaborazione siamo coscienti ha detto il presidente Pollari del fatto che è indispensabile fornire una piena collaborazione per incentivare il più possibile la raccolta differenziata siamo naturalmente favorevoli a questa iniziativa termina qui questa edizione grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti